LA DEEE Bella a tutti ragazzi e buonanotte a questo nuovo video e come sempre sono Favij Così? Così funziona Ragazzi allora vi spiego molto calmamente come, cosa fare, allora, quando noi giochiamo Vi spiego come funziona il gioco, allora massimo 3 minuti per round, start game, allora come funziona sta roba Questa è Google Maps Ahhhh, ma ho capito, ho capito Do you understand what I'm playing? Si, l'avevo fatto in live That's it man Ah, you remember? Yes That's it, allora siamo in due, quindi due cervelli, poco, però, due teste diciamo Però due almeno è moltiplicatore, no? Si Qua c'è un cartello, volevo leggere, non c'è più il cartello Pappano di casella Si sicuro Allora effettivamente non so dove potremmo essere, abbiamo 3 minuti però a round Bello il parabrezza di questo tizio tra l'altro Va bene Con lo scotch Un minuto Senti la prima è per i bimbi dai, la prima è per i bimbi La prima la poniamo, sicuramente penso che siamo... Uhhh Sono 4.000 km Allora, facciamo Italia Ohhhh Ohhhh Questo qua E' la scuola dove andavamo noi E' l'arena di Verona questa qua No? Questa l'ho vista una volta in JoJo Colosseo Con gente che si fa i selfie dentro il Colosseo Credo che sia il Colosseo, non ne sono completamente sicuro No Non andrei sul Colosseo Ma... E' almeno una Direi che ce la portiamo a casa questa Non è il Colosseo Poi devi anche centrare il punto del Colosseo Tra l'altro Ah ok Quindi la parte alta di qua Io so perfettamente che la parte alta è questa E quindi saremo indicativamente qui Battisto 5 al D Mamma mia di 11 metri Mamma mia! Undici metri Se ci sdraiamo 5 volte e abbiamo raggiunto il punto Bene Allora Santa Maria Mmm 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 Io ho visto un banco di Sicilia Non so se posso dire qualcosa Banco di Sicilia Sicilia Secondo me siamo in Sicilia qua Orco mio Ahahahah Quando tu scegli e selezioni i personaggi su Warcraft Che scegli i nani Eh L'orco mio L'orco mio Dai Una scritta Beh perfetto Ma sicuramente Ma poi come è entrata la mappa di Google là dentro Beh Dai ragazzi vi prego Dai un minimo O se no andiamo randomici Niente torniamo sempre l'orco mio Niente sono tratti qua Come? No è un'altra Sembra quella Secondo me è quella di prima Dici? Secondo me è quella di prima È un'altra No è un'altra Che è identica Ce l'hanno fatto il copia in colla È un paese pieno di chiese questo Non lo so raga Non è una minima Siamo in Sicilia fisso brodi Beh quello Non lo so Ma ce l'ha scritto Tu l'hai letto? No però secondo me siamo in Sicilia E allora metterei Si guarda Guarda lì dai Gian aiutaci tu Siamo in Sicilia qua No bro non penso Mi sa di no bro ha detto Scusami Eh? Quella non è letta Non c'entra niente con letta Lo escluderei a priori Però secondo me vedi che qua ci sono un po' più di montagne Quindi saremo tipo qua Si Mamma mia Maaa 50 Guarda che Guarda che Guarda che Guarda che Ci siamo Hai avuto un bel ragionamento Hai visto di? Si perché queste macchine Milano centro Agenzia complessa Cioè è stato un casino farlo Si Difficilissimo Complessa a Milano I mattoni li rilanciavano in una maniera difficilissima Questa è via Torino no? Che cacchio stai dicendo? Eh io avrei detto via Torino Correnti Cioè sai vedi come sono in Milano Non mi intendo di niente Neanche per il modo Bravissi Sbaglio Le macchine sono sui marciapiedi Quindi si siamo a Milano Comunque qua Qua guarda Tipo qui Deve essere da quelle parti Qui Vai Quattrocento due metri Quattrocento due metri Vabbè era bene In linea d'aria In linea d'aria In linea d'aria c'era Va bene Dietre C'hai amiche Allora in realtà Potrebbe confonderci Sai di Si Perché io non vedo vette altissime Onestamente Comincia di Bors Qua Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Poteva essere tranquillamente la Sicilia E infatti Tanto dove stavamo guardando prima C'è incredibile Era difficile C'è il punto più lontano dell'Italia Dove abbiamo schiacciato Bravi Complimenti Le palme Qua siamo in Viguria Non è sempre in Sicilia sai Ah potrebbe essere Vero No è sempre Sicilia C'è il mare l'ho visto Si Attenzione Matera Matera Sicilia Che tutti sappiamo che Matera è in Sicilia Esatto Non è in Sicilia secondo me No è in Puglia forse Matera Era quallo Era quallo Era quello quallo Questo quallo Si Mannaggia era dall'altra parte Vabbè C'è l'Italia Tranne Uno totalmente a caso Gli altri li abbiamo abbastanza azzeccati Vabbè Cambiamo mappa Vedo piante E fin lì ci siamo Allora Si viaggia sulla sinistra E' in Inghilterra E' in Inghilterra La struttura mi sa di Inghilterra Si anche secondo me sai Perché io Bravo Bravo Si potrebbe partire da quella Marocco Marocco Subito Vai Se te lo azzecchi di sto male Cioè devo da Di troloccare Si perché loccare vuol dire che prima del tempo Del tempo Attenzione Se lo azzecco Non lo azzecco ma se lo azzecco Potrebbe darsi eh Mannaggia Transport Eh non si capisce niente In arabo Oil Libia Libia Mamma mia Attenzione Dov'è Sopra 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 Questa Questa è la Libia Non era Libia Non era quella Porca vacca Si è sicuramente Nord Hanno indovinato Nord Africa Egitto No ci hanno già provato Sudan Qua dentro si sudano Tantissimo Eritrea Ma porca vacca Porca 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 Comunque in due Continuiamo a farci buttare fuori Di geografia Lo spiegavo stamattina in live Io faccio cagare Ehm Sai che questa potrebbe essere Non vorrei dire una cazzata Ma potrebbe essere il Giappone E allora si sicuramente Asiatica come situazione Mamma mia Subito Il mezzo Ma non dalle scritte Dalle mura Te lo assicuro La diri conoscevi i posti dalle mura Io dovevo studiare l'architettura Tu sei la conformità dei mattoni Da qua praticamente Ho fatto così Ho guardato qua Vabbè si anche la struttura effettivamente Della casa E' già veramente giapponese Si Sembrava anche ma a panno Comunque effettivamente C'è Ci sono ville così anche lì No? Vietkang optic Aaaaaaah Scusate Sì? No? Sì? Dai? Questa è andata bene Questa è andata bene perchè Fatti sto ciccolanti Sìi Prima ancora che uscisse Quanti motorini No C'è Il giro Rai Sm tudo c'è anche la mia macchina no, uno scherzo sai dov'è l'Italia? no ce l'ho locata da un chilometro e mezzo vabbè, ma qua penso che... giocavamo in casa raga ma non me l'ha presa, perchè? io avevo visto che l'hai locata scusa hai votato due volte Italia non è quella? Rimini è Rimini, non è Italia scusami ma che cazzo? benvenuti in Antica, San Marino non mi dire non ci credo bro non ci credo c'è pensa te stavamo sbagliando come teatori no, non ci posso, guarda non ci posso credere c'era l'unico punto sbagliato quello è il vaticano penso, non so se a parte per favore, gli unici due c'è veramente non è Italia, Rimini dove cazzo è Rimini? non è, non è Rimini ma dai, ma dai, ma dai l'ha locata anche lui è fortissimo lo zio è fortissimo lo zio mare, mare è fortissimo lo zio ma questa mi sa di Grecia può essere? non lo so di aspetta se l'occa è fortissimo ma questo qua è fortissimo c'è veramente ha locato anche Romania non so come ho fatto Amos resort eh potrebbe essere a me sa di Grecia anche a me anche a me MADO ZEEE ZEEE LA DEEE LA DEEE LA DEEE LA DEEE ZUUUUU che cazzo scia sputa ok ok